Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vi parlo dei fotolibri professionali della CEWE che possiamo realizzare comodamente a casa tramite il loro software. All'interno di questa confezione è presente un fotolibro professionale che ho realizzato in modo molto semplice e veloce grazie al programma della CEWE. Infatti come vedete è possibile realizzare un prodotto di livello alto in modo semplice e veloce dal vostro computer. All'interno di questa confezione troviamo il fotolibro della CEWE premiato con il TIPA 2020. Si vede già dal confezionamento che non si tratta di un tradizionale fotolibro ma di un prodotto professionale. All'interno della scatola troviamo anche un bigliettino perfetto se ad esempio dobbiamo utilizzare questo fotolibro come un regalo. E come vediamo il confezionamento è simile ad esempio agli album di nozze con questo tessuto che ci permette di andare ad estrarre dalla scatola il nostro fotolibro che poi si presenta con diverse finiture. Infatti come vedete questo ad esempio è realizzato in pelle bianca con le scritte a risalto in oro. Si tratta quindi di una soluzione professionale infatti il TIPA Award 2020 che è stato vinto dalla CEWE per questa tipologia di fotolibro è un premio che viene assegnato per le innovazioni nella stampa fotografica mondiale. Per la realizzazione di questo fotolibro è possibile scegliere tra copertine con finitura in pelle come quella che abbiamo scelto noi e copertine con finitura in linea. Sono disponibili diverse colorazioni, la pelle è disponibile ad esempio in bianco come questa, in nero e nella colorazione marrone effetto marmo. Mentre per quanto riguarda le copertine in lino sono disponibili in bianco, in grigio e in blu. Su tutte le copertine è poi possibile andare a scegliere l'utilizzo di questi caratteri a rilievo come vediamo anche luminescenti che sono disponibili nella colorazione oro, oro rosa e argento. In questo modo andremo a creare un album impreziosito dalle finiture di pregio che è perfetto da utilizzare ad esempio per dei matrimoni, delle nascite, dei battesimi, cresime, comunioni o degli anniversari. E andremo a creare un fotolibro professionale semplicemente con il fai da te e il programma CEWE. Le copertine tipa 2020 sono disponibili per due formati di fotolibro che sono quelli che valorizzano anche di più le immagini che andiamo a inserire all'interno. Infatti è disponibile il formato XL che è questo, quello 30x30 da chiuso che permette di andare a inserire all'interno fino a 114 pagine. Mentre è disponibile il formato XXL dalle dimensioni 38x29 cm che permette di andare a inserire fino a 98 pagine. Per quanto riguarda poi l'interno questi fotolibri sono realizzati e stampati su carta fotografica premium che ci permette quindi di andare a far risaltare le foto presenti all'interno andando a rendere ancora più professionale il risultato finale del nostro fotolibro. Tramite poi il software CEWE come avete già visto in altri video pubblicati sul canale la realizzazione di un fotolibro di questo tipo è veramente semplicissima. Grazie alle dimensioni delle pagine molto generose potremo scegliere di andare a inserire più immagini come abbiamo fatto ad esempio in questa pagina o potremo anche scegliere di andare a inserire delle immagini singole a tutta pagina per andare a valorizzare ancora di più i contenuti del nostro fotolibro. In base quindi a quelle che sono le foto che avete a disposizione e in base a quello che è la giornata che volete ricordare l'utilizzo di questo fotolibro è sicuramente una soluzione ideale per realizzare un ricordo speciale e perché no anche un'idea regalo perfetta ad esempio per ricordare un anniversario di matrimonio. Oltre alla qualità del fotolibro infatti è da apprezzare anche la qualità del confezionamento che ci permette poi di andare a conservare il nostro fotolibro una volta che l'abbiamo guardato proprio all'interno di questa scatola che è realizzata e curata nei minimi particolari. Come al solito se avete delle domande su questo prodotto e sulla realizzazione dei fotolibri con le copertine in pelle in lino e le scritte a rilievo potete lasciare un commento qua sotto cerco sempre di rispondere a tutti. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto con un mi piace o non mi piace sotto al video iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per non perdere tutte le recensioni che pubblichiamo ogni giorno su recensioni per scegliere per questo video col fotolibro professionale cewe è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da Enrico. Grazie a tutti.